Quando arrivano nuovi ospiti in convergo, imprenditori, liberi professionisti, magari persone come te, curiose, vengono a vedere e rimangono spesso colpiti positivamente. C'è un sacco di bella gente, si fanno relazioni, c'è qualità, persone di qualità. Però spesso c'è un ma che io ho sentito negli anni. E il ma è, ma sai, sono tutti liberi professionisti, sono tutti consulenti, quindi non sono proprio il mio target, no? Io cerco imprese. Allora, questa obiezione è una delle più frequenti. Come rispondo a questa obiezione? In maniera molto semplice. Le dico, guarda che le imprese sono proprio lì. E lui mi dice, ma dove? Non ho visto altri piccoli imprenditori come me. E lui gli dico, il commercialista di alto livello, il consulente finanziario di alto livello, l'assicuratore, il consulente del lavoro, quante aziende ha nel suo pacchetto? L'imprenditore è quello lì, le grandi imprese sono quelle lì. È più importante avere un commercialista come partner, come tuo partner vicino, come tuo partner di un tavolo, come una persona che vuole lavorare con te, che ha un pacchetto di imprese, tante imprese, o avere magari il singolo imprenditore di quelle imprese. Quindi le grandi imprese, le piccole imprese, gli imprenditori, le trovi in convergo e spesso sono, oltre agli imprenditori che ci sono, quelli che proprio hanno capito questo spunto e sono in convergo, sono proprio il commercialista, quelle figure lì, il commercialista, il consulente, che sono le figure fondamentali perché ti portano alle imprese. Quindi in un momento di sperimentazione, di scenari cambiati, è sempre lì la domanda da porsi, no? Vogliamo essere aspettare, capire come vanno le situazioni, o cavalcare la situazione e quindi affrontare nuove sfide, nuove opportunità insieme ad altri. È una questione di mindset, o mindset statico, o mindset dinamico. Il tuo qual è? Ti aspetto in convergo, ciao!